Questa è un'offesa a Lugo! I cittadini di Lugo, vi offendo, me ne vanno! Sì, brava! Grazie per riprendere anche, grazie da molto! Molto gentile! Beh, non ce n'entra che non è ma... Ah, certo! Un cazzo! Lei guarda vedere se io ho Facebook, se ho Youtube, se ho un cazzo, quelle cose lì, non ho niente! Mi fate schifo, mi fa schifo il sistema, lo capisce? Se dovete vedere solo speculare, 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 fare soldi sulla povera gente, sulle disgrazie della povera gente! E quando c'è da puntare la telecamera sul cielo, farsi delle domande, da dove cazzo vengono? Com'è possibile che sia l'Aquila Romagna intera, da Cesena a Bologna, in due giorni di pioggia? Com'è possibile? Perché hanno incominciato a interrogarvi su questo? Siete vergognosi! Servi del sistema, non servite a un cazzo! A un cazzo di niente! Non servite solo a offendere! A offendere le brave persone! Siete una vergogna! Una vergogna umana! La figlia È vernicane... Vado! Lei è venuta a speculare, è venuta a guardare che sei sfigato, che ti sei allagato, che hai perso la... ...che sono i giorni di pioggia che mette in crisi un'Emilia Romagna, fate schifo! Andatevi da casa vostra, non abbiamo bisogno delle vostre informazioni di merda! La gente qua è tutta d'accordo nella live, sta scrivendo tutti che sono d'accordo con noi, bravissimo! Sì perché in realtà non si troverà, non c'entrano le responsabilità vere di questo disastro, questo è un disastro! Scusa, stiamo utilizzando da stagare... E' tanto! Minchetto! Qua sto scrivendo un grandissimo primo uomo, giornalista e servitore... Non c'è di bastare in ferro! Oh, è andato di nuovo da loro! Vieni, vieni! Condividete la live, ragazzi! Condividete la live! Condividete la live! Condividete la live! Condividete la live! Dai! Scandalo!